Viviamo in un momento di grande inquietudine, con la guerra alle nostre porte, la crisi internazionale, la crisi economica. Un momento in cui le istituzioni, in particolare il Parlamento, devono rappresentare un faro di sicurezza e serietà. Dal ruolo centrale del Parlamento parte la nuova legislatura. Il neopresidente della Camera dei Deputati, il leghista Lorenzo Fontana, nel suo primo discorso sottolinea l'importanza di dare risposta ai bisogni degli italiani in questa fase storica complessa e drammatica. Cattolico, nel suo discorso ha dedicato un saluto a Papa Francesco definendolo riferimento spirituale per la maggioranza degli italiani. Fontana viene da un'esperienza da Ministro della Famiglia e degli affari europei da sempre in prima lina nelle battaglie in difesa della vita. Non ha mai nascosto le sue idee difendendo posizioni talora controcorrente. Forse anche per questo nel suo intervento auspica un'Italia che non si omologhi alle mode del momento, mettendo da parte tradizioni e cultura. L'omologazione è uno strumento dei totalitarismi. Beato Carlo Acutis disse tutti nascono originali ma molti muoiono come fotocopie. Era un ragazzo di 15 anni. Ad attenderlo questa mattina in aula uno striscione polemico esposto dai deputati del PD tra le accuse quella di essere amico di Putin anche se Fontana è stato tra i primi a ribadire la necessità delle sanzioni contro Mosca e l'importanza di mantenere una posizione euro-atlantica. Noi abbiamo il dovere di offrire agli italiani la realtà di un futuro possibile, l'orgoglio di un Paese che è tra le sette maggiori economie del mondo, Paese fondatore dell'Unione Europea, creatore di bellezza e di gusto, con il patrimonio artistico più invidiato al mondo.